Bene ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. Subito in apertura parliamo di docenti, docenti magistrali. Sono arrivati in regione, è un problema che attanaglia un po' tutta l'Italia. Proprio in Veneto hanno protestato contro la sentenza che li vede di fatto fuori dai giochi. Ma sentiamo le parole proprio dei docenti magistrali arrivati in regione. Sono Michela Burtoletto, rappresento i docenti magistrali del Veneto ed insieme ai miei colleghi abbiamo formato dei gruppi Whatsapp divisi per regione e più una pagina su Facebook, Chiocciola Docenti Magistrali. Siamo venuti qui nella Commissione del Consiglio regionale per portare avanti le nostre problematiche ovvero che in Veneto si ritroverà a settembre senza insegnanti perché a causa della sentenza del Consiglio di Stato verremo depennati dalle graduatorie ad esaurimento nelle quali ci troviamo ci verrà tolto il ruolo e torneremo a fare appunto i precari. Ci tengo a dire che non è vero che siamo docenti con solo diploma magistrale perché fra di noi ci sono molti laureati e addirittura gente con master. Vi sono anche insegnanti che hanno passato il concorso pubblico ma magari per altri casi non si sono presentati e vi sono anche insegnanti che non potevano accedere al concorso pubblico perché appunto entrati di ruolo con riserva. Quindi noi chiediamo appunto alla regione che si faccia carico delle nostre problematiche e che le porti appunto a Roma perché il problema in Veneto è molto grave e non vi saranno appunto insegnanti e la riapertura delle scuole a settembre sarà a rischio. I numeri, quanti sono gli insegnanti? Allora, quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sono circa 3.000 in più in Veneto, in più vi è tutto un sottobosco che non è stato numerato appunto perché si hanno i numeri di quelli nelle GAE in queste graduatorie appunto ad esaurimento perché hanno superato l'anno di prova valutati da una commissione di insegnanti e hanno avuto un atto di immissione in ruolo firmato dal dirigente scolastico. Quindi questi sono i numeri in generale ma sono effettivamente molto più grandi. E ora andiamo a Portogruaro parliamo di un protocollo sul futuro della cura agli anziani un protocollo che vede la IPAB Francescona al centro di importanti iniziative. Sentiamo. Verso un protocollo Italia-Slovenia che sperimenti un nuovo modello di presa in carico delle persone anziane sarà questo l'oggetto del confronto del comitato scientifico di Crosscare il progetto europeo guidato dalla cooperativa sociale ITECA di Pordenone previsto il 20 febbraio a Portogruaro nella sede della IPAB Francescona nel corso dell'incontro il partenariato procederà con lo studio della bozza del protocollo lavoro già iniziato lo scorso 23 gennaio a Capodistria che rappresenterà un passo cruciale per lo sviluppo del manuale per un'assistenza integrata e personalizzata. Crosscare è un progetto inserito nel programma interregionale 5A Italia-Slovenia 2014-2020 che punta sul welfare trasfrontaliero e che vede coinvolti diversi soggetti istituzionali compresa l'azienda sanitaria 4 del Veneto orientale durante l'ultimo incontro in Slovenia i delegati hanno analizzato l'organizzazione europea di welfare identificando quattro sistemi per ognuno di essi tedesco, conservatore, inglese liberale, scandinavo e mediterraneo sono stati prese in considerazione le caratteristiche principali con punti di forza e di debolezza con l'obiettivo di raccogliere gli elementi necessari per progredire con la ricerca altro punto focale del Summit la individuazione degli strumenti di valutazione delle funzioni cognitive o della capacità di eseguire attività di base da parte di persone anziane fragili Crosscare prevede anche l'avvio di una sperimentazione di ausili tecnologici domiciliari che permettano di registrare in tempo reale informazioni sull'attività dell'anziano oltre a ciò verranno attivati i punti di servizio rivolte agli anziani e alle loro famiglie all'interno della casa di riposo sempre meno pesce conferito al mercato ittico di Caorle ma il prezzo di vendita all'ingrosso rimane competitivo e questo è il punto principale che emerge dal bilancio del triennio 2015-2017 del mercato comunale a balzare all'occhio e la progressiva riduzione delle quantità di pescato vendute all'ingrosso nella struttura di riva delle Caorline se a fine 2015 verranno trattati 206.241 kg insomma 206 tonnellate a fine 2016 il saldo si era ridotto a 188 e al 31 dicembre dello scorso anno la quantità è stata ancora inferiore 158 tonnellate ovvero circa 158.000 kg in tre anni la pressione quindi sfiora il 25% due sono i fattori che hanno determinato questa spirale da una parte la minore pescosità dell'Adriatico dall'altra e soprattutto la progressiva diminuzione delle imbarcazioni che conferiscono il pesce al mercato oggi sono solamente una ventina inattanti tra motopescherecce e piccole imbarcazioni che lavorano nelle acque interne del comune che collaborano con la struttura a contribuire alla riduzione vi è stata inoltre la demolizione negli ultimi mesi dello scorso anno di quattro imbarcazioni che fino a quel momento attraccavano alla riva delle Caorline ora andiamo a Jesolo parliamo di quei fratelli che erano stati separati dalla nascita poi adottati sono sette e si stanno tutti ritrovando ora manca l'ultimo tassello ritrovare Luca dopodiché tutti saranno nuovamente assieme è la storia che ha per protagonisti sei fratelli originari di Rovigo e tutti dati in dotazione a famiglie diverse nel 1972 solo una settimana fa a Jesolo si sono riunite le tre sorelle Annalisa Pan 46 anni adottata da una famiglia di Cittadella trasferitesi recentemente a San Martino di Lubari quindi Belinda e Monica Nardin rispettivamente di 47 e 50 anni adottate da una famiglia di Cavalino Treporti dove continuano a vivere dopo gli abbracci e l'infinita gioia le ricerche sono continuate per i tre fratelli maschi la nuova svolta è arrivata nell'ultima settimana Annalisa ha ritrovato Marco 55 anni il più vecchio dei sei che vive a Bazzano in provincia di Bologna Belinda era riuscita a trovare anche Mauro 52enne nel primo caso l'aiuto è arrivato da chi l'ha visto che si è occupata della vicenda un parente di Marco venuto a conoscenza della storia ha chiamato Rai 3 dicendo che poteva essere uno dei fratelli giusto il tempo di fare le opportune verifiche e Annalisa ha ricevuto la conferma ovviamente con tantissima emozione sempre al telefono si sono sentiti anche Belinda e Mauro a favorire il contatto sono stati poi i social in particolare l'appello scritto sulla pagina figli adottivi cercano genitori biologici un utente mi ha indicato il nome di Mauro racconta Belinda ho provato a contattarlo attraverso i social ma inizialmente senza successo per questo mi sono rivolta a un suo amico che mi ha aiutata dandomi il numero del telefono di Mauro gli ho scritto un messaggio al quale mi ha risposto che lui era la persona che stavo cercando a quel punto l'ho chiamato è stata la telefonata più bella della mia vita sentire la sua voce è stata un'emozione intensa tutto quello che stiamo vivendo in questi ultimi giorni è travolgente ho sempre desiderato ritrovare i miei fratelli è un sogno che si sta concretizzando a Oderzo sempre più la cura del verde c'è un bando per le cop sociali sentiamo sono stati piantati diversi cipressi in via altinate laddove c'erano dei pioppi che sono stati abbattuti perché presentavano diversi problemi nel frattempo il comune di Oderzo ha messo un avviso esplorativo per capire se ci sono cooperative sociali interessate a ottenere in affidamento il servizio di manutenzione del verde pubblico le domande devono essere presentate entro il 23 febbraio le nuove piante saranno messe a dimora sia lungo i viali dove gli alberi già ci sono sia a lato di strade dove mancano è il caso di via dello scautismo dove sono previsti dei cipressi altri interventi sono previsti in viale San Pio X col Francui in viale città di Pontremoli nei pressi del Palamasotti nel parcheggio delle scuole medie a Malteo nelle vie a postune di Camino postume di Fratta via Verdi l'obiettivo è quello di ripristinare la continuità esistente ha spiegato l'assessore all'urbanistica Vincenzo Artico un intervento specifico è previsto per Via Rino e Arturo Simonetti qui sarà messo a dimora una Ginkgo Bilboa che è una pianta importante affiancata da Ornielli Olmo Comune e Gelsonero la messa a dimora di nuovi alberi raggiungerà pure le frazioni come la strada che porta al cimitero di Colfrancui via Miganza verso Fe le specie che saranno utilizzate sono Frassino Maggiore Leccio Acero Campestre Biancospino Bagolaro e Tiglio il patrimonio verde è importante e l'appalto per la sua manutenzione è una voce che pesa sul bilancio comunale lo scorso anno ricorda Artico abbiamo avuto dei problemi con la manutenzione dei cigli stradali quest'anno non sarà più così perché la gara che verrà svolta non sarà più al massimo ribasso per il 2018 chiederemo l'offerta più vantaggiosa uno dei requisiti richiesti alle cooperative e che abbiano fra i loro lavoratori soci persone diversamente abili o comunque svantaggiate in questo modo sotto la linea Artico puntiamo a coinvolgere la comunità dando un'occupazione anche a delle difficoltà ennesimo tutto esaurito al teatro comunale Luigi Russolo di Portogruaro per la messa in scena del padre uno spettacolo inserito nel cartellone dedicato alla prosa della stagione teatrale 2017-2018 organizzata dalla fondazione musicale Santa Cecilia protagonisti della serata due volti noti dello spettacolo italiano quale Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere che per la regia di Pietro Maccarinelli con elegante ironia hanno recitato un testo che propone una riflessione profonda sui problemi legati al morbo di Alzheimer e Maurizio Conti è andato a sentire lo stesso Alessandro Haber con Alessandro Haber uno dei volti più noti del teatro e dello spettacolo italiani questa sera a Portogruaro per la messa in scena del padre uno spettacolo che già ha riscosso un grande successo in passato sia in Francia che in Gran Bretagna ecco uno spettacolo che parla di cosa? vorrei fare un inciso che sta avendo un grande successo anche in Italia perché questo secondo anno che lo facciamo lo faremo anche per il terzo anno e forse anche per il quarto quello vogliono tutti un spettacolo fantastico meno male parla 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 in maniera tragicomica di un male che pervade l'Italia con un milione di persone che hanno questo problema che è l'Alzheimer ed un uomo che comincia a averlo comincia a avere i primi sintomi e lentamente finirà nell'oblio insomma è come un'isola che appare scompare scompare sempre di più appare sempre di meno lentamente comparirà quest'isola ed è per cui non avrà più né presente né passato né futuro chi ne soffre sono le persone che gli stanno attorno è un personaggio bellissimo trattato con leggerezza ma con ironia ma anche con grande dramaticità perché alla fine si ride in uno spettacolo ma si piange anche questa doppia valenza è una bellissima regia posso dire che l'idea geniale di quest'autore infatti sta avendo un grande successo in tutto il mondo ma si lo so è che lui ha messo il pubblico con la sua scrittura ha messo il pubblico nella testa di Andrea di questo personaggio che interpreto io è come se il pubblico vivesse le stesse sensazioni le stesse smarrimenti le stesse preplessità le stesse angosce e paure e questa è la grossa geniale infatti c'è una catarsia alla fine è uno spettacolo raro insomma io tra l'altro ogni volta sento la responsabilità di fare questo spettacolo che tocca perché mi incontro a tanta gente e poi alla fine dello spettacolo medici badanti persone che hanno avuto in casa questo problema insomma devo dire che tutti mi hanno detto delle cose molto belle e ne sono molto contento insomma ecco abbiamo detto lei è uno dei volti più noti del nostro teatro nell'era di internet dell'informatica dei messaggi telefonici il teatro ha ancora un suo valore può ancora dare un messaggio particolare importante intanto vorrei precisare una cosa ci sono tanti volti 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 è importante la stima che provano che prova per me la gente che prova per me questo è importante perché tanti volti uno fa una cazzata fa il grande fratello c'è il volto il volto del che e sono anni di lavoro anni di cose belle che ho fatto di premi di film di cinema di teatro il teatro non mi è mollato ma il teatro credo che si resterà mentre il cinema forse avrà altre storie si vedrà in altre situazioni voglio dirti ormai lo si vede tutto a casa c'è on demand c'è sky c'è next il teatro sarà dove rimarrà nel tempo forse l'unico diciamo forma d'arte che non morirà mai perché la gente ha bisogno di sentire un respiro sentire qualcosa che e poi ci sono le metafore cioè è più vero il teatro che la vita vera insomma insomma in qualche modo è una forma che ha un impatto col pubblico incredibile cioè il pubblico vive lo stesso le tue stesse sensazioni in quel preciso momento mentre quando fai un film lo giri oggi esce fra otto mesi se esce per cui nel frattempo in questi otto mesi sono morti i cugini sono caduti i governi sono eseguiti i terremoti cioè perché non c'è mai una realtà una verità una verità nella contemporaneità ed è una forma fin dagli antichi greci insomma il teatro è una forma che non credo che non morirà mai ed è un ed è un veicolo di cultura del sapere dell'emozione insomma è formidabile è una cosa che che non si può che non si possa farne a meno e devo dire che avete visto Favino l'altro giorno a me mi è emozionato ha fatto una cosa di coltesso una cosa dura tosta davanti a 12 milioni di persone insomma è stato un successo incredibile questo ti fa capire che la parola la metafora la poetica se è fatta come è fatta fatta bene arriva ed emoziona e non ci sono blef non ci sono filtri non ci sono effetti speciali c'era un attore con un testo e con la sua bravura con la sua intelligenza la sua sensibilità è arrivato a una massa di gente ne parlano tutti è dato un amico e ha fatto molto piacere devo ringraziarlo per quello che ha fatto e ora andiamo nello petergino il controllo del vicinato scatta anche a Ponte di Piave l'amministrazione ha promosso il progetto e programma un incontro pubblico per il primo marzo come sperimentato dal resto in diversi altri comuni della marca l'iniziativa prevede il controllo da parte dei residenti delle varie strade cittadine se qualcuno nota qualcosa di sospetto insomma lo potrà segnalare al responsabile di zona che farà da tramite con le forze dell'ordine la rete di sorveglianza attiva sta prendendo piede un po' in tutto il comprensorio Oderso ad esempio i residenti sono già in campo da circa un anno se ne parla a Meduna dove da qualche giorno la giunta ha dato il via libera al progetto curato dalla polizia locale lo scorso mese a Motta c'è stata anche una serata di presentazione del progetto che a suo tempo venne posto all'attenzione del consiglio dal consigliere Stefano Astolfo poi votato anche dalla maggioranza in queste settimane si sta facendo invece la conta dei volontari che aderiranno e ora è la volta di Ponte di Piave la giunta ha fissato dunque la serata illustrativa fissata per giovedì 1 marzo alle 20.45 alla casa della comunità Martina di via Gasparinetti subito a Meolo parliamo di assistenza domiciliare un'accessione dell'assistenza domiciliare che passa di mano e a quanto pare non piace soprattutto la minoranza sentiamo dal 1 marzo arriveranno nelle case di 48 utenti a Meolo dei nuovi operatori di assistenza domiciliare il comune di Meolo ha infatti deciso di privatizzare il servizio e ha pubblicato il bando d'appalto per 12 mesi 72 ore alla settimana ad un costo di 72 mila euro l'operatrice rimasta dopo il pensionamento della collega è stata trasferita all'ufficio comunale della programmazione della finanza e i due automezzi utilizzati finora compreso quello di Bito al trasporto in carrozzina verranno dismessi chiudere il servizio comunale determinerà un aumento dei costi di 35 40 mila euro senza alcun incremento dei servizi sostiene Filippo Mariuzzo portavoce della lista civica Scelgo Meolo 2019 calcolando il costo dell'appalto più quello dell'operatrice ricollocata in municipio operatrice che sempre secondo Mariuzzo poteva essere assorbita dal nuovo gestore privato o continuare il lavoro visti i 18 anni di attività e la profonda conoscenza dei casi se l'amministrazione comunale avesse optato per i servizi in convenzione con altri comuni come proposto dalla stessa civica nessun aumento di costi ribatte la vice sindaca Moira De Luigi anzi a conti fatti il comune spenderà meno e avrà una risorsa in più saranno infatti a carico della cooperativa che otterrà l'appalto non solo il lavoro delle operatrici ma anche le spese per gli articoli di consumo quali guanti detergenti indumenti del personale che prima pagava il comune e soprattutto non si porrà più il problema delle sostituzioni o ferie inoltre avremo la possibilità di collocare in un ufficio comunale importante l'operatrice rimasta vista la sofferenza di organico anche se inizialmente seguirà la cooperativa per il passaggio di consegne e i mezzi che venivano usati nell'ambito del servizio erano da rotamare se fosse continuato il servizio avremmo dovuto acquistarne di nuovi ribadisce ancora la vice sindaca così invece saranno a carico della cooperativa i 72 mila euro coprono molte delle spese extra non solo il costo dei due dipendenti come vuole far credere l'opposizione nuovi spogliatoi e docce per lo stadio Silvestri di Fossalta di Piave l'opera del costo di 250 mila euro è sostenuta per intero dal comune che ha sottoscritto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti il progetto di ristrutturazione è stato affidato all'ingegnero Tello Bergamo di Jesolo presto sarà pronto anche un bando della città metropolitana stazione unica appaltante per poter procedere all'affidamento dei lavori la riqualificazione che prevede la demolizione delle superlettili esistenti dovrebbe essere avviata nel giugno di quest'anno ed essere completata nell'arco di un anno Vinicio Scortegagna adesso arriva con una foto reporter scatti dal territorio grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi rimanete con noi a risentirci alla prossima edizione parai